A partire dalla primavera del 2021, Dacia Spring, la nostra citycar a zero emissioni, ha fatto registrare oltre 110.000 ordini in Europa ed ha conquistato importanti riconoscimenti. Nel 2022 ha ottenuto 5 stelle al test Green & Cup. Spring si è dimostrata un'auto rispettosa dell'ambiente, non solo per l'assenza di emissioni inquinanti, ma anche per il basso consumo energetico. Ad inizio 2023 Spring è stata nominata l'auto con il minore impatto ambientale vincendo il premio Green & Cup 2022 come migliore auto per l'efficienza energetica. Presentata con l'obiettivo chiaro di democratizzare l'auto elettrica, Dacia Spring ha reso la mobilità full electric accessibile a tutti, rispondendo perfettamente alle reali esigenze dei clienti. Sull'inedita motorizzazione electric 65 Dacia propone l'allestimento extreme con un design specifico puramente outdoor che la rende ancora più cool grazie a colori inediti e agli elementi color rame che caratterizzano tutte le versioni extreme. Spring Extreme electric 65 offre un piacere di guida ottimale e garantisce più brio in accelerazione per essere apprezzata sia nella guida in città che nelle aree perurbane. Dacia Spring, la mobilità elettrica diventa extreme.